Era nell'aria da giorni e adesso è arrivata l'ufficialità. Francesco Carità è il nuovo assessore della Giunta Cambiano. Prende il posto del dimissionario Massimo Licata d'Andrea, di cui con successivo provvedimento erediterà anche le deleghe relative a sport, turismo, spettacolo, teatro comunale, gemellaggi e centro storico. Carità ha giurato ieri pomeriggio e questa mattina ci ha rilasciato le prime dichiarazioni da assessore. Vorrei ringraziare ovviamente il sindaco per la grande fiducia che mi ha accordato e sicuramente le deleghe saranno quelle che sono di Massimo Licata d'Andrea. Oggi ovviamente io mi ritrovo a dover iniziare un percorso, un percorso in cui credo, un percorso per cui secondo me bisogna stabilire un modus operandi. Il modus operandi è quello di fare in modo che passi un'idea sana di Licata, un'idea ovviamente che si fonda sull'impegno a cercare di realizzare dei progetti e cercare di dare dei risultati. Francesco Carità è un avvocato, eletto consigliere comunale nella lista il domani e all'indomani delle elezioni si era dichiarato consigliere indipendente aderendo al gruppo misto. Per lui quella dello scorso mese di luglio è la seconda elezione consecutiva e pertanto è rimasto vacante due mesi lo slot di assessore dopo le dimissioni di Massimo Licata e Andrea ufficializzate lo scorso 1 ottobre. Prima della nomina e del giuramento di Carità si è svolta una cesa riunione a cui hanno preso parte diversi consiglieri vicini all'esecutivo. Nessun commento è arrivato all'amministrazione. Carità invece ci ha fatto sapere di essersi già messo al lavoro per programmare le iniziative natalizie. Il Natale è l'esigenza prioritaria. Sicuramente già ci sono delle idee che sono state portate avanti dalla Giunta e dal Sindaco. Io devo semplicemente prendere le redini della situazione e cercare col massimo impegno di portare avanti e di anche dare un contributo oltre ore di idee a quelle che già sono dei progetti che devono essere realizzati. Ovviamente è inutile dirlo, la situazione finanziaria dell'ente ci impone anche nell'ottica della realizzazione di questi obiettivi ci impone la massima rigidità da un punto di vista delle spese, ci impone di aguzzare l'ingegno per cercare delle soluzioni che possono allietare le nostre vie, il nostro centro storico, per dare un senso della festività anche ai nostri bambini che ovviamente hanno bisogno anche di avere delle attrazioni e di avere anche degli svaghi.